professore cosa cosa no raga no 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 ehi cosa tu ancora vuoi ancora affrontarmi calmati non ho mai voluto impedirti la sopravvivenza dimmi qual è il tuo nome nome ethan ok ethan sono dispiaciuto per averti trattato così tu e il tuo amico e di aver distrutto l'elettricità del treno avevo le mie ragioni e quali sarebbero immaginale quel treno così veloce avrebbe causato un sacco di rumore e una luce una luce bright lightning e una luce molto forte insomma puoi vedere quella luce dalla distanza e quando gli non morti vedono la luce dalla lontano e se dovessero vedere la luce sarebbero noi saremmo completamente persi se più infetti invaderanno la città tutti saremo condannati le persone che sono ancora vive possono lasciare golden rossiti con noi qual è il problema lasceremo questo posto per sempre ethan tu non capisci non è a riguardo della sopravvivenza di golden road city è a riguardo dell'intero genere umano questa malattia questa peste è iniziata qui cosa questo disastro è partito da qua e si è diffuso esattamente ma ma come voglio dire è iniziato tutto qui e quindi noi potremmo fermarla questa malattia una cosa che posso dirti con certezza è che non puoi curare questa infezione ma sì possiamo fermarla non più persone pokemon infetti questa è la nostra più grande priorità capisci mi capisci ecco perché dobbiamo proteggere golden road city possiamo finire il tutto qui ma come il come è un'ottima domanda ethan tornerò mi tornerò presto da te prima cosa che devo fare è prendere cura del mio miltank mi dispiace per il tuo pokemon è tutto ok era quello che ti ha affrontato se dovremmo sopravvivere questo mondo e se vogliamo sopravvivere riportare questo mondo alla normalità ti darò la medaglia piana come non ho capito una domanda il tuo gruppo è nei sotterranei sì perché ti darò qualche consiglio fate attenzione le persone spesso vestono quella maschera per chiedere qualcosa a volte le persone hanno dei segreti molto molto sporchi quindi arrivederci ethan questa cosa qua mi mette davvero in soggezione e la ricollego molto ragazzi al discorso che ci aveva fatto il professor helm prima di morire tu l'hai trovata sì ecco qua ethan ok gli diamo la foto perfetto wow grazie ethan questo vuol dire molto per me dobbiamo proseguire ce la faremo ce la faremo sì tutto andrà bene sono sicuro di ciò ho incontrato whitney di nuovo whitney la capopalestra che ti ha attaccato che ha attaccato te e harold sì ma non ha importanza adesso che ci abbia attaccato le stavo solo parlando a quanto pare sa molto più dell'infezione di rispetto a noi ha detto che tutto ciò è iniziato qui qui in questa città a golden road city cosa qui a golden road city e e dove esattamente la fonte dov'è che cosa ti ha detto sfortunatamente non ha potuto dirmelo mi ha salutato prima che build non so cosa vuol dire lo cercherò fuori parte prima che potesse dirmelo wow quindi l'infezione è iniziata da qua non ci avevo mai pensato pensi che si possa fermare questa malattia forse ci sarebbe una grande speranza sarebbe una grande speranza per tutto il fottuto mondo grazie per quella foto ancora etan nessun problema ma c'è un'altra cosa ho visto delle cose là fuori torna da me dopo il dopo è molto relativo ossia c'è tipo tipo adesso ad esempio quindi dimmi che cosa devo vedere o etan penso che non sarà facile ok che cos'è c'è un altro grande centro pokemon infetto no c'è un altro grande pokemon infetto che sta per attaccare la città come quel venusaur ma ogni entrata di golden road city è stata barricata quel pokemon non sta venendo dalla terra sta venendo dall'acqua merda è molto importante riuscire a liberarcene quindi un tipo acqua si cazzo ascolta anche il tuo quilava dovrebbe avere dei vantaggi contro dei pokemon d'acqua infetti non sono più vivi pensaci quindi ci proverai lo stesso deve essere fatto giusto sfortunatamente si credimi se ci fosse cioè se ci fossero delle munizioni se io avessi ancora delle munizioni ti aiuterei a distruggerlo dannazione mi piacerebbe davvero poterlo fare ok perfetto cosa vuole ancora quindi etan che cosa pensi pronto ad affrontare il pokemon di tipo acqua infetto non ancora in realtà fatemi salvare poi andiamo fatemi salvare e poi andiamo si fanculo il tempo sono troppo preso tanto lo taglierò in due spezzoni questo video che sto facendo ok mi devo preparare psicologicamente cazzo un kingdra oddio ho seriamente il terrore un kingdra infetto ehm maledizione sembra spaventoso ma posso farcela vero aspettate fatemelo studiare un attimo cosa ha fatto ok l'ho preso ma ma mi ditemi che non mi sto colpendo vi prego ok forse se mi nascondo qua non mi può prendere vero in teoria si però vedo che la mia vita va giù non capisco come sia possibile sta cosa come come oh 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 no dai non puoi davvero farlo fa che roba eh vabbè è ovvio grazie al cazzo come faccio mi arrivano pure gli zombie in faccia stai scherzando ma dai ma ti sembra normale sta roba ok dai riproviamoci a sto punto raga boh c'è veramente pure gli altri zombie non bastava al kingdra normale no tra l'altro poi mi colpisce a caso cioè nel senso proprio ma di prepotenza allora vai proviamoci di nuovo nascondiamoci qua subito ok devo colpirlo così aiuto 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 provo a stare di qua non lo so eh no ma vedi mi prende a prescindere spara ok spara ok ok eh fanculo l'ho mancato ok perfetto questo l'ho seccato sul posto ottimo preso preso non l'ho preso 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 perfetto eh mi sono accorto adesso che c'ha una vita effettivamente ok posso addirittura andare lì e colpirlo così volendo sì ma non ho già più vita c'è nel senso ma che roba come cazzo faccio con 14 di vita buttare giù sto coso gigantesco che fra parentesi ce la sto facendo ma solo perché lui non sta facendo quella roba di acqua guardalo il cancro cristo dai ma arrivano pure i pokemon raga come si fa c'è veramente è impossibile sta roba è impossibile sta roba dio mio e raga cioè nel senso io i ps che ho sono quelli non posso fare miracoli cioè alla fine sono umano anch'io mi piacerebbe restarlo quindi boh non so se riuscirò a sconfiggerlo sinceramente guarda subisco danni a caso non faccio nulla mi faccio male eh guarda adesso spara la sua stronzata di acqua che mi colpisce pure se mi riparo da cristo guarda poi arriva l'uomo cancro arriva l'uomo cancro l'uomo cancro eh vabbè sì questa battaglia qua mi dicono dalla regia che è andata molto bene comunque tanto poi arrivano le altre merde cioè nel senso poteva almeno il creatore di sto cancro risparmiarseli quei cancri allucinanti guarda come cazzo lo prendo io sto coso è ovvio che muoio è ovvio che muoio ragazzi come faccio scusatemi no 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 dai dai non è concepibile sta roba ci riprovo un'ultima volta ragazzi poi lo farò nel prossimo episodio cioè non è che ho molta scelta alla fine nel senso sono anch'io umano e boh dio bono tra l'altro ripeto cioè se non ci fossero quelle merde che arrivano fuori a caso io ce la farei anche perché cazzo basta fare tutta una battaglia così nel senso non è che chissà quale problema però guardalo c'è nel senso spiegatemi voi come fa uno guardalo poi mi chiude mi chiude mi chiude nel nulla ahhh cioè ho perso 3000 ps al primo minchia che passa per strada cioè se vi sembra normale sta cosa fatemelo sapere non lo so guarda che roba guarda che roba muori cristo devi morire ok ce l'ho fatta questo qua l'ho seccato tipo anche bene tra l'altro muori spara la tua stronzata ok dai 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 che a vita e a vita arancione ce la si può fare volendo se non arriva un cancro da la ce la potrei fare anche tranquillamente invece no devo avere ansia ogni cosa che io faccia muori figa ok 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 siamo già più avanti del solito siamo già più avanti del solito cos'è successo perché mi ha laggato pure perché mi lagga il gioco cioè no raga veramente perché non spara ok ci manca solo che mi lagga il gioco e poi ce le ho tutte davvero ok e non ho più neanche rimedi quindi raga c'è al prossimo zombie io perdo comunque ce l'abbiamo fatta perfetto dio mio che roba ma che roba 300 cadaveri fiu questo è stato davvero complicato eeeh spero che questa sia l'ultima grande cosa che ho dovuto fare oggi torniamo indietro al nascondiglio madonna raga c'è veramente è stata una cosa allucinante io non so come farò andare avanti io in sto gioco adesso c'è sono letteralmente fottuto professore cosa cosa no raga no 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 ethan io io non ho molto tempo professore come sta dai non è credibile però sta roba è passato sono passati 30 anni professore come sta cosa è successo il mio il mio assistente mi ha morso ho provato a ucciderlo ma ho perso un po' di sangue e ora sono privo di coscienza il mio corpo la temperatura del mio corpo sta aumentando ok non è stato ucciso lui è riuscito comunque nel mentre a uccidere il suo assistente però è in fin di vita non mi sento bene sai cosa vuol dire ciò vero ethan ascoltami attentamente prima che io muoia c'è una cosa c'è una cosa che non posso dirti tutti ogni umano e ogni pokemon aioto è infetto non è importante se sono morsi o se non lo sono ogni creatura che ogni creatura morirà a suo momento ethan tu sei sempre stato un bravo ragazzo promettimi che ti prenderai cura di te stesso professore professore tutti siamo infetti ciò cosa vuol dire se tutti siamo infetti stavo cercando di riflettere raga ma non ho trovato non riesco a trovare una risposta grazie professore grazie di tutto non ti deluderò dovrei dire anche agli altri che siamo tutti infetti spero che questo incubo possa finire presto ok andiamo a parlare per l'ultima volta con Dave non c'è nessuno dove dove sono tutti ehi qualcuno vivo qua giù no questo questo è Dave no raga no 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 è morto chi è stato Whitney raga le abbiamo detto il coso merda raga secondo me è stata Whitney maledizione la mia testa Dave grazie a dio sei vivo e quei maledetti figli di puttana Dave la tua testa sta sanguinando cosa che cosa è successo cazzo ragazzo sono svenuto gli altri gli altri sono impazziti che cosa è successo stanno tutti bene se stanno bene ovvio che stanno bene quei fottutissimi falsi non capisco ascolta Whitney è stata qui me lo sa il cazzo abbiamo fatto una stronzata cosa è stata Whitney no in realtà stava passando di qui eravamo scettici ma poi ci ha mostrato una chiave era una chiave per una nave no ha messo le chiavi sul tavolo e se n'è andata e poi è iniziata una discussione iniziata per capire come potessimo andarci nel più velocemente possibile voglio dire è un'ottima era un'ottima opportunità per fuggire ma non ma non volevo andarmene senza di te almeno prima di darti questo tipo una roba del genere non so cosa voglio dire con la scritta lì che non riesco a decifrare non so cosa sia volevano andarsene il più presto possibile mentre tu stavi prendendo ti stavi prendendo stavi uccidendo quel Kingdra insomma era l'unica opportunità ero l'unico che voleva aspettarti è stato un argomento scottante e la violenza è iniziata e poi sono svenuto qualcuno mi ha colpito knocked me out qualcuno mi ha sbattuto fuori tipo probabilmente è stato Walter quel figlio di puttana ora tutti sono andati hanno salvato i loro culi non te l'avevo detto di fare attenzione Whitney perché l'hai fatto? avevo il sentimento che quelle persone non erano oneste con voi ecco perché sarebbero potute diventare un problema se non se ne fossero andate guarda questo ragazzo per esempio pensavo che questo gruppo avesse un grande lavoro di squadra bastardi sembra che mi abbiano mentito tutto il tempo mi dispiace ma questi bastardi ora sono salvi chissà ma e adesso? che cosa succederà a noi? ottima domanda non hai un'altra nave? una nave con una pistola così potremo raggiungere quella nave con quei maledetti figli di puttana sfortunatamente no ma se possiamo fermare questa infezione non dovremo fuggire forse ehi ragazzina sembra che tu sappia molto di più di quello che sappiamo noi non puoi chiarirci un po' le idee? dici quello che sai questo disse ah mi sta davvero annoiando mi sta infastidendo ok quindi tutto è iniziato quando Team Rocket è arrivato a Golden Road City flashback ragazzi che figo l'infezione è stata causata da un artifact un artifact che è stato rubato da Team Rocket e questo artifact e sull'artifact c'era scritto il potere di rendere chiunque pericoloso ecco perché le reclute del Team Rocket me l'hanno detto penso che Team Rocket non sapeva esattamente che cosa questo volesse dire tutto è iniziato all'attacco tutto è iniziato qua la funzione dell'artefatto non so se sia artefatto raga non ne ho idea la funzione di questo artefatto non aveva un gran raggio lavorava solo a brevi distanze funzionava solo a brevi distanze ma quando prendi questo artifact e lo utilizzi con dei trasmettitori a quel punto puoi infettare un'intera regione ecco perché Team Rocket ha iniziato ad assaltare la torre radio ok ragazzi praticamente una storia alternativa a quella che conosciamo della presa della torre radio hanno attivato l'artifact e hanno hanno fatto partire le onde non molte persone hanno realizzato che Team Rocket era Golden Road City ovviamente hanno ancora l'artefatto ne sono sicura ecco perché ora siamo ecco perché non sono contenti che questa piaga si sia si sia si sia diffusa la malattia è iniziata a non riesco a leggere non so cosa ci sia scritto non ho idea che è morto recentemente sembra che ci è voluto un po' prima che le persone sapessero che cosa stava succedendo wow ora io capisco il Team Rocket pensava che potessero controllare ogni pokemon e renderli limp limp non lo so ma limp non vuol dire non vuol dire controllare vuol dire creature senza coscienza limp vuol dire tipo stupide o comunque prive di intelligenza maledetto Team Rocket sapevo che sapevo che avrebbe fatto qualcosa di così stupido ehm quelli sono totalmente pazzi si ma che ci sai dire sull'infezione hai detto che si sarebbe potuto fermare questo casino ma l'artefatto è andato non è vero si c'è qualcosa che non vi ho ancora detto però l'artefatto viene da un luogo di sepultura e questo luogo di sepultura è esattamente sotto la palestra oddio quindi lo sai? non esattamente ehm c'è una una stanza collegata a questo questo luogo di sepultura sepoltura forse non sepoltura ehm non ero interessato a visitarlo a visitare dei cimiteri perchè avrei dovuto? forse c'è qualcosa la sotto potrebbe fermare l'artefatto ci sono dei rumori che provengono dal 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 da quel luogo di sepoltura per esempio ehm ci sono i i ghost dei dei deceduti forse o forse potrebbe essere un pokemon leggendario o cazzo un pokemon leggendario non morto ehm sai perchè non vado laggiù? ehm forse era per questo che non ci andavo ma penso che io debba ehm non so che cosa ci possa aspettare la sotto ok dovremo andare lì immagino a sto punto wow ehm vorrei non essere mai venuto a golden road city ok ora basta però sinceramente voglio assolutamente andare a vedere sta roba per piacere basta dialoghi non ne posso più stai qui stai qui non ci sei utile non per adesso e va bene aspetterò voi ok forse tra l'altro potremmo andare con chiara visto che ha miltank lei no? ti prego vieni con noi ok stai già andando una cosa ho sbloccato la porta del giudice nomastico penso che ci siano ok delle supplies queste ci saranno molto utili queste ci saranno davvero molto utili ehm va bene va bene va bene dai ho capito tanto so dove devo andare adesso mi sono rotto anche le palle ok ragazzi penso che prima di andare alla palestra andremo dal name rater perché ci sarà molto utile